buongiorno allora questo è un video un po diverso dal solito molte persone me l'hanno chiesto però ho provato a farlo diversamente di come me l'hanno chiesto le persone non l'ho mai fatto sul canale per cui voglio provare questa volta a vedere se vi piace questo genere se vi piace questo genere di video lo faccio anche con l'inverno se non vi piace ovviamente non farò questo genere di video comunque avete già letto del titolo per cui vi farò vedere i miei vestiti estivi del 2023 praticamente tutti i vestiti che ho aggiornati del 2023 ci sono quelli nuovi ci sono quelli vecchi da un bel po di anni per cui adesso vi farò vedere tutta la mia collezione dei vestiti eleganti non eleganti estivi del 2003 anche se è finito l'estate e da un po in ritardo questo video però c'è ritardo l'ho registrato in questi in queste settimane proprio quando è finita l'estate e fatemi sapere se veramente vi piace calcolate che sono indossati da una ragazza curvi che poi curvi si chiamano così le altre diciamo persone mi avevano chiesto se facevo un outfit del giorno eccetera io proverò a fare anche quello di diciamo di video che non durerà diciamo così tanto ma vabbè proverò a fare anche quello intanto guardate questo genere di video fatemi sapere a fine video se poi vi può interessare e vi può piacere diciamo tutti i vestiti tutte le cose che che ho che indosso diciamo sia sia quando esco la sera sia quando esco calcolate che i vestiti che adesso vi farò vedere sono un po di sera cioè che metterò alla sera i giorni in cui fa caldo per farvi capire in estate oppure la maggior parte sono vestiti che porto tutto e tutti in vacanza e le userò quando sono che ne sono in vacanza le userò quasi tutti invece quelli normali sono vestiti che uso la sera per uscire andare in giro ad esempio al ristorante e poi lassù giù quelli più leganti che sono quelli a fine video sono diciamo tipo da cerimonie da io l'ho comprati perché mi piacevano ho detto vabbè non ce li ho prendiamoli e proviamoli tutto qua per cui adesso vi lascio le clip vi lascio il video e niente fatemelo sapere qui sotto in un commentino e con dei like noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.